Mercoledì scorso, ore 20, campo di beach volley, spiaggia dei sabbioni. Un posto strano per assistere ad una prova di ciclisti, ma non se la manifestazione si chiama Tour de Pants. Non si trattava infatti di una sfida in bicicletta, ma bensì di una gara di biglie sulla sabbia, proprio come quelle che sui litorali dell'Adriatico spopolano tra grandi e piccini. Una festa con tanto di sano agonismo, ma con poche gocce di sudore spese. La pista è stata preparata a pieno stile Tour de Pants, con tanto di pavè, rampa sterrata e ponte tibetano in cartongesso, con tanto di Gran Premio della Montagna. Un gioco d'altri tempi. Quando arrivava la bella stagione, o durante le vacanze al mare, ogni posto andava bene per il gioco delle biglie. All'interno di esse vi erano raffigurati i campioni di ciclismo, figli di un dio minore, oscurati dai divi del calcio come Mazzola e Rivera. E non erano solo i bambini a partecipare a questo gioco popolare. Anzi, non era raro ritrovarsi chinati sulla pista di sabbia con chi l'età dello sviluppo l'aveva già passata da un pezzo e ormai non aveva più le ginocchia sbucciate. Ma torniamo alla gara dei sabbioni. Dopo le batterie disputate sotto un'inattesa pioggia, forse un piccolo tributo alla famosa nuvoletta del compianto ragionier Fantozzi, sono poi seguite le finali alla luce dei riflettori, naturalmente il tutto corredato da carne salada e bevande per tutti. La prova è terminata intorno alle 20.30 con il suo vincitore, Gio Tavernini, uno dei padri fondatori del famoso Golia, quindi un professore di gogliardia che ha fatto tagliare il traguardo alla sua biglia davanti a tutti con dito fermo e sicuro. Neanche il tempo di rifiatare e la prossima settimana toccherà alla prova notturna di Pregasina, un'insolita staffetta al rovescio che culminerà alla chiesetta del paese dove come di consuetudine il comitato locale attenderà la folle carovana con un simpatico rinfresco. Questa è una tappa che si giocava una volta ma si gioca ancora sull'Adriatico, la tappa delle biglie su pista di sabbia, nel nostro caso il tappone virtuale che sostituisce una tappa in sela a bicicletta ma con difficoltà di Gran Premio della Montagna, Pavè eccetera c'è gente che disturba come sempre, io non li sopporto questi qua ma non cambieranno mai. Si va a finali, semifinali e ci sono le varie bonus di penalità, chi passa per primo sul Gran Premio della Montagna sono 10 punti, poi c'è il muro di Grammona che è quello lì è uno dei più difficili da passare in Pavè e per ultimo la foresta di Asenberg, insomma adesso siamo nel pieno del svolgimento della gara e naturalmente io ho spiegato le regole ma nessuno mi ascolta come sempre, soprattutto questo che ha vinto il Tour l'anno scorso che è il più discolo di questi qua, Ciuccia Rodele, è in netta difficoltà, sembra che non sia arrivato neanche nelle finali. Tanto l'ho già vinto il Tour. Infatti in questo momento non è neanche Maglia Gialla perché è il Walter Lombroso e anche lui ha difficoltà ad entrare nella finale di questa tappa, quindi forse finalmente se la giocano questa tappa quelli che non sono così dotati sulla salla, sui pedali di una bicicletta. Ma ci vedremo San Giovanni, ci vedremo San Giovanni che vi faccio un mazzo tanto! Vuole essere il più forte in salita però... Era, era, era il più forte in salita, dopo ho cominciato a fare vita notturna. Comunque, comunque, l'ultimo appunto, la prossima tappa fra una settimana la staffetta notturna pre-gasina, quella da non perdere perché sostituirà quello che è le luciole con i costumi e luci che facevamo una volta, però sarà altrettanto cattivante. E poi c'è il comitato di pre-gasina che ci aspetta come sempre e ci prepara il pasta party, sarà divertente anche lì, però si faticherà. Anche se comunque la classifica nelle gare in bicicletta non è poi così importante, è l'ordine di arrivo. Sì, soprattutto in alcune tappe dove poi peschi una pallina col numero che ti ribalta la posizione, lì è la fortuna che decide, la Dea Bandata però ultimamente bacia solo i forti e gli sfigati li fa rimanere tali, quindi noi ci abbiamo provato, insomma. Walter Lombroso, attuale maglia gialla al Tour de Pants, quali sono le sue emozioni a rivestire questa carica? È una grande emozione rivestire la maglia gialla e speriamo di tenerla, dai, è un bel gruppo, ci si diverte e avanti sempre.